Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento per noi di Becco Giallo, casa editrice che insomma sede da un po' di tempo ormai a Padova, è un'occasione veramente molto speciale e graditissima, ma passiamo subito al dunque, è graditissima perché siamo riusciti a portare qui a Padova i due autori di questo fumetto, insomma chiaramente essendo Becco Giallo si parla quasi sempre di fumetti, è stato disegnato questo fumetto da Jody Qual che in questo momento è seduto alla mia sinistra al tavolo ed è stato scritto da Francesco Scalettaris, Francesco è per metà francese, lo sottolineo perché fra poco capirete perché, mentre Joe è doc, oserei dire in tema vino friulano, di Udine in particolare, anche Francesco per metà lo è, ma dicevo per metà invece è francese, perché in qualche modo secondo alcuni, ma poi vedremo se è vero, il cosiddetto movimento che è una lunghissima onda che arriva fino ai nostri giorni, anche questa graditissima per quanto ci riguarda e che ha a che fare con il cosiddetto vino naturale, secondo molti dicevo affonda le sue più profonde radici proprio in terra di Francia, in particolare in un'area ben delimitata che risponde al nome di Beaujolais, di tutto questo ma anche di altre cose immagino che ci parleranno Francesco e Joe, attraverso le parole di Francesco e i disegni di Joe, per l'appunto io vi ricordo che conoscere il vino, manuale a fumetti per entrare un pochino in questo splendido e meraviglioso mondo, secondo me lo trovate poi disponibile sopra i banchetti oppure anche qui alla vostra sinistra sul tavolino dove ci sono anche alcune bottiglie di vino che insomma se riusciamo a poco a poco vi faremo assaggiare, ci piacerebbe farvele assaggiare e sono dei vini che hanno in qualche modo a che fare con questa lunga storia di chi uomini e donne spesso ultimamente anche molto giovani, questo è un messaggio di grande speranza cerca di fare viticoltura insomma in maniera decisamente più sana e più giusta dal nostro punto di vista in estrema sintesi, ecco dove appunto la chimica per esempio non è vista come la soluzione di tutte le problematiche legate al mondo del vino, lascio subito la parola a Francesco e lascio ovviamente invece le immagini a Joe, vi ringrazio e buona continuazione. Grazie Guido, grazie, 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 grazie. Qua c'è Joe, lui è bravissimo a disegnare, lo vedrete fra poco, è un po' più timido a parlare però magari qualcosina ce la dirai anche tu. Io sono Francesco, come Guido mi ha introdotto, sono effettivamente metà francese, mia mamma è francese, di fatti quando vado in Francia tutti mi chiedono, ah ma che bene, ah ma come parli bene francese? Io dico sì, beh ma il fatto è che bevo tanto vino francese, questo mi aiuta molto a conoscere la lingua ovviamente. È una battuta che però ai francesi orgogliosi come sono del loro vino, che è il migliore del mondo, fa tanto piacere sentire, ridono e quindi siamo subito amici. Allora io vado avanti svelto perché abbiamo più o meno tre quarti d'ora da passare assieme questa sera, in cui non parleremo tanto del fumetto, del libro, perché quello che a noi piace fare non è la classica presentazione del libro, quello che a noi piace fare, e quando dico noi intendo me, Gio, ma ovviamente anche Guido, Becco Giallo, è qualcosa di diverso. A noi cerchiamo sempre di trovare dei linguaggi per comunicare il vino in maniera diversa, in maniera un pochino più pop, in maniera un po' più democratica, in maniera un po' più accessibile a tutti, motivo per cui abbiamo scritto il fumetto, che è in assoluto in Italia almeno, il primo manuale a fumetti sul vino, che quindi ovviamente non è per bambini, non vogliamo incitare i bambini a bere, ma vogliamo invece aiutare gli adulti a conoscere un po' meglio come si fa, come si degusta, come si abbina il vino, sia quello tradizionale, cioè che è quello non naturale, perché, perché volenti o non volenti, il mondo, il mercato del vino è pieno di quel, per la maggior parte, è pieno di vino tradizionale, che poi viene chiamato tradizionale, come se tradizionalmente si facesse così, in realtà la chimica è entrata in vigna da poco, quindi tutt'altro che tradizionale, ma comunque gli hanno dato un nome così, che potesse suonare carino, ma in realtà di carino c'è poco, ma anche se parla di vino naturale, di vino biodinamico, cose di cui fra poco vi racconterò. Quindi vi dicevo che a noi piace trovare dei linguaggi alternativi per comunicare il vino, e quindi anche le presentazioni non sono le classiche presentazioni a come ti è nata l'idea di fare il fumetto, quanti anni hai, da dove vieni, chi sei, che numero di scarpe porti, ma invece raccontare qualcosa sul vino, come con me, che parlo, ovviamente, e Joe, che disegna dal vivo. L'abbiamo già fatto in diverse volte, recentemente ci hanno chiesto di raccontare la storia della Federazione Italiana di Vignaioli Indipendenti, alla fiera, questa fiera che si svolge a Piacenza una volta all'anno, ed è la seconda fiera più grande d'Italia, dopo il Vinitaly, e lì, insomma, abbiamo pensato, vedi, allora questo meccanismo di raccontare, parlare, disegnare dal vivo funziona, poi dopo ce lo direte anche voi se è così. Se voi siete pronti, se Joe sei pronto, sei pronto? Pronto. Ecco, sapete che voce ha Joe adesso. Noi possiamo iniziare. Allora, oggi parleremo di un personaggio che forse non tutti conoscono, che si chiama Jules Chauvet, personaggio che ha segnato per la sua grandissima lungimiranza e la sua capacità di conoscere certi meccanismi nel mondo del vino, ha segnato una strada che poi adesso viene percorsa da tanti, giustamente, che è quella dei vini naturali. Pensate che Jules Chauvet era considerato, ed è considerato ancora, come il più grande degustatore francese di tutti i tempi. Poi adesso non c'è più, quindi non è che si può metterlo alla prova. Però, insomma, gli iscritti ci dicono che è così. Ma non stiamo parlando del 1200, bensì degli anni 80, quindi praticamente l'altro ieri. Il vino naturale, fino a 30 anni fa, per certi versi ancora adesso, viene considerato quello fatto coi piedi. Cioè dice, ah, in cantina, sì, io faccio vino naturale, cioè lo schiaccio coi piedi, poi viene fuori aceto e dice, è buon, però è naturale. Ecco che in realtà questo spesso è un pregiudizio che in tanti hanno. In realtà il vino naturale nasce, vi dicevo, nel Beaujolais. Allora, il Beaujolais è una piccola regione, siamo nella parte orientale della Francia, siamo a nord di Lione, siamo fra Lione e l'inizio della Borgogna, una delle zone più vocate a fare il vino, forse al mondo. Ed è veramente una regione molto piccola, dove si produce, ovviamente, il vino che si chiama Beaujolais. Nello Champagne si produce lo Champagne, nel Beaujolais si produce il Beaujolais. In questo caso il Beaujolais nouveau, nuovo, novello, per meglio dire. Facciamo un piccolo passo indietro. Il vino, aspettate, mi tolgo la sciarpa che sto soffocando. Dicevo, il vino, in due parole, praticamente si parte dall'uva, si prende l'uva, la si porta in cantina, la si schiaccia, si decide se togliere o non togliere le bucce, se le lascio otterrò un vino rosso, se l'uva è rossa, se la tolgo otterrò un vino bianco, anche se l'uva è rossa. Premo, spremo l'uva, ottengo un succo, faccio fermentare questo succo, diventa alcolico, i lieviti, fanno due cose nella loro vita, sanno fare, e dice che non è poi neanche così male, perché loro mangiano gli zuccheri e si riproducono, e basta. Se nella vita fare queste due cose non sono malissimo, e quindi loro lo fanno, sono contenti di farlo, trasformano gli zuccheri dell'uva in alcol, si imbottiglia, si ottiene il vino, si può far affinare in legno, in acciaio, in pietra, dove si vuole, però in due parole questo è il, come viene fatto il vino. La cosa curiosa è che qualcuno invece ha pensato di, probabilmente in maniera casuale, di farlo in una maniera un po' diversa, che è quella appunto del Beaujolais Nouveau o del Vinnovello. Dovete sapere infatti che questa tecnica prevede di prendere l'uva intera, i grappoli interi, di solito si toglie il raspo, la parte verde, invece in questo caso si prendono i grappoli interi e li si mette tutti, uno sopra l'altro, dentro questi grandi contenitori. E cosa succede? Succede che i grappoli che vengono messi sul fondo dei contenitori sostengono il peso di tutti i grappoli che stanno sopra, e questo peso fa sì che inizino a rompersi gli acini di questi grappoli che stanno sotto, quelli sopra invece sono ancora interi. E questa rottura fa uscire il succo, ovviamente. Il succo che, sappiamo, i lieviti non vedono l'ora di andare ad aggredire perché è zuccherino e quindi cominciano a fermentare, cominciano a riprodursi, a mangiare lo zucchero, beati loro, e poi cominciano a fermentare. Fermentare cosa vuol dire? Vuol dire produrre anidride carbonica e alcol. Questa anidride carbonica comincia a saturare la vasca dentro cui ci sono tutti questi nostri grappoli e con tutta questa CO2 in questa vasca satura, cosa succede? Succede che anche gli altri acidi iniziano a fermentare, ma non fuori, ma dentro a se stessi. Quindi immaginatevi ogni chinco di uva che dentro questo chinco d'uva succede una microfermentazione, una per una. Cosa che invece di solito no, di solito si preme e si prende tutto il succo via e si fa fermentare. Invece in questo caso ogni singolo chicco d'uva fermenta al proprio interno. Questo vi dicevo non è stato, non è che uno ha detto ma petta proviamo a fare così. Probabilmente è successo in maniera spontanea, addirittura trasportando l'uva da una parte all'altra e qualcuno ha pensato ma in fondo non è poi così male perché si ottengono dei vini molto diversi, molto diversi dai classici vini a cui siamo abituati. Un esempio sono i vini che assaggeremo fra poco, che sono ovviamente fatti in questa maniera. Voi mi dite ok ma tutto bello, interessante, magari non lo sapevo, questa cosa del fatto che l'uva fermenta all'interno di sé invece che essere schiacciata. Cosa c'entra effettivamente con i vini naturali? Beh c'entra perché adesso ci arriviamo e vi racconterò come questo fenomeno è molto molto legato alla nascita dei cosiddetti vini naturali. Abbiamo visto quindi la magia che porta a ottenere questi vini, vini che sono molto diversi da quelli che vi dicevo, quelli classici, sono vini estremamente fruttati, che hanno una caratteristica fruttata che difficilmente si trova negli altri, sono vini che sono poco tannici, il tannino è quella sensazione che vi lega in bocca, quella sensazione rugosa che vi capita anche, non lo so, mangiando un carciofo crudo o se giocate con uno stuzzicadenti in bocca, ecco il tannino del legno, dello stuzzicadenti vi fa grappare un pochino le gengive, ecco quella sensazione lì è il tannico, ecco nei vini fatti in questo modo, cioè con la macerazione carbonica, abbiamo capito perché macerazione e CO2 carbonica, sono molto poco tannici, infatti vengono subito definiti i vins de suave, cioè i vini della sete, cioè vini da bere così, come fosse succo di frutta, tant'è che effettivamente hanno poco alcol, hanno 10 gradi, 11, 10 e mezzo, sono sempre gradazioni alcoliche piuttosto basse, che appunto portano a fare, ad essere vini della sete, molto fruttati tipo succo di frutta e dici wow il vino perfetto, purtroppo no, sono vini che proprio per queste caratteristiche fanno fatica a conservarsi e che quindi devono essere bevuti molto presto dopo la vinificazione, e attenzione perché questo è un passaggio fondamentale nella nostra storia che ci porterà a conoscere Jules Chauvet. Ok, entriamo in Francia, andiamo a passi veloci verso il... stavo guardando, ok sì, effettivamente del Beaujolais sarebbe forse qualche chilometro più a est, ma insomma avete capito più o meno dov'è, zona estremamente vocata quella lì, la Borgogna per capirci è poco sopra il pallino rosso, Lione è lì, poi sotto c'è tutto il Cauduron e altre, insomma da lì si prosegue, altre zone altrettanto vocate. Ok, abbiamo parlato di Beaujolais, andiamo alla nascita, quindi del Beaujolais Nouveau, ovviamente il Beaujolais Nouveau non è stato inventato trent'anni fa, probabilmente esisteva già nell'ottocento ed era quello che veniva, il classico vino che veniva prodotto, venduto, trasportato da Lione a Parigi e durante il viaggio già fermentava, insomma veniva fuori quel che veniva fuori probabilmente in quegli anni. Ecco che la zona del Beaujolais, seppur vocata adesso per la viticoltura, in realtà dovete immaginarvela come una zona estremamente povera, una zona che ha subito moltissimo, soprattutto a livello di mano d'opera, l'impatto delle guerre, della seconda guerra mondiale in particolare, e dopo era una zona in cui pochissimi volevano lavorare la terra, in cui ci si spostava verso le città e di conseguenza si abbandonava anche la viticoltura. Questo perché è importante? Questo è fondamentale per capire una certa cosa. I pochi viticoltori, siamo negli anni 50 più o meno, i pochi viticoltori che coltivavano il vino nel Beaujolais dovevano sottostare alla regola prevista dal ministero francese che diceva che tu non puoi mettere in vendita il tuo vino prima del 15 dicembre dell'anno in cui hai prodotto il vino, quindi quest'anno 2022 noi a settembre, agosto vendemmiamo, bene, prima del 15 dicembre noi non possiamo vendere il nostro vino. Ok, loro dicono noi siamo disgraziati, non abbiamo gente che lavora i campi, non abbiamo di che vivere, facciamo qualcosa per, fate voi ministero, fate qualcosa per darci una mano. Il ministero ci ha pensato, ci ha pensato per 5, 10, 15, 20, 30 anni e dopo 30 anni arriva una bella raccomandata all'organizzazione dei produttori del Beaujolais dicendo va bene, voi da quest'anno potete vendere il vostro vino un mese prima rispetto agli altri e quindi il 15 novembre e questa data, quindi questo ovviamente gli garantisce di una maggiore liquidità di incassare prima sulla vendita del vino, anche perché loro dicono il nostro vino lo facciamo in questa maniera particolare, la CO2, il saturo, gli acini che fermentano, quindi produciamo un vino molto leggero che non vuole barrique, non vuole affidamenti, non vuole niente, fatecelo vendere prima e il ministero gli ha detto va bene, vendetelo dal 15 novembre in poi e questa cosa qua ha creato un fenomeno che dal punto di vista del marketing è curioso, è bello, praticamente tutti cominciavano a fare gara, a fare una gara alle cantine, a fare in modo che il loro vino arrivasse più lontano possibile nel mondo e che poi il 15 di novembre, il 14 novembre a mezzanotte, 15 novembre, un secondo dopo la mezzanotte si stappasse la bottiglia e dicevo ah sì io la mia bottiglia l'ho venduta in Giappone, mercato enorme per il Beaujolais Nouveau per qualche motivo e a Tokyo la mezzanotte 1, tra l'altro col fuso orario eccetera, apriranno la bottiglia, ah sì no e la mia invece è a Vancouver, io sono riuscito a far arrivare a Vancouver una bottiglia e questo ha creato dal punto di vista del marketing un fenomeno molto interessante che ha fatto crescere enormemente la notorietà di questo vino. Altra cosa è è stata quella dei cartelli affissi fuori dalle noteche, dai ristoranti, dai bar, dalle vinerie, le Beaujolais Nouveau est arrivé e il Beaujolais Nouveau è arrivato, cosa che troviamo anche noi quando c'è il vinnovello, è arrivato il vinnovello, abbiamo il vinnovello eccetera, è lo stesso significato e questo, anche questo facevano a gara ovviamente i ristoratori ad essere a mezzanotte, tenere aperto per poter un secondo dopo la mezzanotte stappare Beaujolais Nouveau, fatto nella stessa maniera dei vini che state tra l'altro assaggiando proprio adesso. Ecco che quindi questo sancisce un enorme successo del Beaujolais Nouveau che però subisce il fatto che effettivamente le campagne erano povere, non c'era nessuno a lavorare e quindi per star dietro alla produzione cosa si fa? Si ricorre in maniera massiccia alla chimica, chimica per sterilizzare tutto quello che in vigna non è vigna, quindi tutti insetti, piante, qualsiasi tipo di forma vivente in vigneto doveva essere eliminata, doveva crescere soltanto l'uva che poi si capirà essere una stupidaggine incredibile, ma insomma loro non lo sapevano, facevano finire di non saperlo. Quindi si ricorre alla chimica, si ricorre a delle lavorazioni meccanizzate, quindi non c'era nulla, non c'era l'attenzione del piccolo viticoltore che andava lì e pianta per pianta tagliava, potava la sua vite, ma erano macchine che poi immaginatevi insomma stavano entrando in viticoltura in maniera, in agricoltura in maniera massiccia ai trattori, quindi dicevano avanti tutta, è finita, la fatica è finita, via dentro col trattore e quindi si perde quel piccolo vignaiolo che con la sua esperienza va lì e taglia, cura e dice la buonanotte alle sue piante prima di andare a dormire. Ecco invece tutt'altro è quello che stava succedendo, questo perché per star dietro a queste produzioni e a questa domanda in Giappone, a Vancouver ma anche in Francia, tant'è che cominciano a omogeneizzarsi tutti i vini e tutti i Beaujolais e Nouveau cominciano a sapere di banana e questa banana che non è perché ci mettevano dentro ma semplicemente perché utilizzavano dei lieviti tutti gli stessi, dei lieviti che erano molto produttivi, che lavoravano benissimo in qualsiasi condizione, ecco che davano tutti e uno ha detto guarda quel lievito lì funziona benissimo, lo dimentichi, te ne freghi, lui va, fa, fa quello che deve fare senza che tu stai di preoccuparsi se fa caldo o freddo, se c'è zucchero, lui va, ha un unico difetto sa di banana, pazienza dai l'importante è produrre e quindi avanti, giù fuori 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 ettolitri, centinaia, migliaia di ettolitri di Beaujolais Nouveau che sapevano tutti di banana e parallelamente i vigneti che cadevano in miseria, perché? Perché venivano massacrati dalla chimica, venivano massacrati dalla pressione delle ruote, dei trattori, venivano massacrati dall'ignoranza che purtroppo avevano i viticoltori. A un certo punto una rivista che si chiamava Quechoisir smaschera questo enorme bolla e arriva a dimostrare che c'era un produttore che aggiungeva zucchero al proprio vino, cosa che in Italia è viettatissima a tuttora, in Francia si può ma in piccole quantità, beh lui aggiungeva anche fino a 80 grammi di zucchero, di zucchero saccaroso, zucchero bianco, dentro le sue bottiglie, che è un abominio perché dici se ci aggiungi lo zucchero vuol dire che non sei stato in grado o in vigna di far sì che la tua uva producesse, fosse dolce, fosse zuccherina e quindi aggiunge questa cosa, si smaschera questa enorme truffa del fatto che per star dietro a sta domanda maledetta dovevano produrre un sacco, dove non arrivava la chimica e le macchine arrivava la cantina e quindi lo zucchero e quindi si scaldava artificiosamente il mosto e quindi si iniziava a utilizzare lo zolfo in maniera massiccia e i famosi solfiti e la famosa anidride solforosa. Il Beaujolais Nouveau però continuava ad avere il suo successo malgrado queste sue caratteristiche però ovviamente perdeva sempre di più di valore e sempre meno veniva considerato un vino dignitoso tant'è che ancora adesso se ci pensate sia il Vinnovello che probabilmente noi in Friuli abbiamo una grandissima tradizione di Vinnovello ma anche qui in realtà c'è dappertutto in più o meno dove si fa vino c'è la tradizione del Vinnovello ecco che in Francia ancora il Beaujolais Nouveau seppur insomma abbia le sue limiti ma ancora risente di questo passato in cui è stato fortemente penalizzato. Quindi effettivamente rese altissime ma di una qualità di vini di una qualità imbarazzante. Ecco che in questo mondo che stava avanzando velocissimo vi dicevo dopo le guerre dopo il boom economico la ripresa arriva un personaggio arriva il personaggio che abbiamo introdotto poco fa arriva Jules Chauvet. Allora Jules Chauvet vi dicevo miglior considerato miglior degustatore a te riportato avanti avevi già disegnato. Ecco quando vi stavo per parlare di lui a 18 anni che probabilmente non era così. Conosciamo Jules Chauvet che ha 18 anni che con una passione smodata guarda a caso proprio per la chimica. Potrebbe sembrare un paradosso invece effettivamente così con la sua passione smodata per la chimica per la biologia e per tutti i fenomeni naturali. Lui a 18 anni quindi si mette a studiare. Suo padre vendeva vino. Siamo nella zona del Beaujolais guarda a caso e lui vendeva vino anche il Beaujolais di Nouveau che sapeva di banana. Ecco la sua grande passione di Jules quindi lo porta a frequentare degli istituti. Il scrive in particolare giovanissimo scrive a Otto Warburg che era un premio Nobel per la medicina e direttore di un istituto di studi sulla chimica e sulla biologia di Berlino per dirgli senti incontriamoci, vediamoci perché ha un po' di domande da farti sulla biologia, sulla chimica, sulle fermentazioni, su quello che succede in vigna eccetera. Si incontrano, vanno, va tutto bene. Soltanto che a un certo punto questi suoi studi vengono interrotti dal fatto che deve andare in guerra. Deve andare in guerra e fra la leggenda e la storia c'è l'episodio di lui che fugge da una prigionia dicendo scusatemi ma le vendemmie nel Beaujolais mi aspettano e devo andare lasciando questo bigliettino sui carcerieri. Ecco che quindi lui va effettivamente torna a casa, scappa, fugge per andare a seguire le vendemmie del Beaujolais. Beaujolais che ovviamente abbiamo fatto un passo indietro era nella fase di esplosione, di boom e di utilizzo massiccio ancora della chimica. Lui, Jules, con i suoi studi, la sua aria seriosa e i suoi studi molto approfonditi capisce che effettivamente però quella non può essere la strada. La chimica, le meccanizzazioni, la produzione massiccia non può essere la strada. E allora nel frattempo poi sono finite le guerre e il mondo avanzava sempre peggio, sempre più lontano rispetto alla direzione che lui voleva seguire. Ecco che allora dice a un certo punto suo padre muore molto giovane quindi prende in mano lui la situazione sia del negozio dove vendeva vino che della produzione di vino perché dice a me non piace quello che devo vendere, il vino che sa di banana a me non piace me lo produco io e metto a frutto quello che ho imparato. Così prendeva a studiare in una nella città in Francia più famosa per la profumeria quindi si fa affiancare e affianca dei grandi profumieri per imparare l'arte della degustazione e per migliorare la sua capacità ovviamente di assaggiare e quindi di produrre vino sempre più lontano dalla standardizzazione del Beaujolais Nouveau di cui abbiamo parlato poco fa e della banana. Ok quindi Chauvel studia, approfondisce, lavora e inizia a produrre vino, un vino che comincia a essere talmente buono che pensate che anche il generale De Gaulle lo considerava l'esempio perfetto di come doveva essere il Beaujolais cioè aromatico, leggero, tant'è che De Gaulle ne beveva quotidianamente il vino di Jules Chauvet. Siamo nella fase del famoso 15 novembre, siamo nel momento del boom, tutti quelli che corrono a un secondo dopo mezzanotte a comprare il vino e Jules Chauvet un anno in particolare, il 15 novembre il vino di Jules Chauvet non c'è, tutti cominciano a mezzanotte, il giorno dopo, le settimane dopo cominciano a dirgli ma il tuo vino che è così buono che viene bevuto anche da De Gaulle eccetera, com'è che non c'è? Siamo il 15, 16, 17 novembre e lui rassicurava tutti dicendo no ma certo che c'è il vino, è qui, è in cantina, lo sto assaggiando ogni giorno, poi quando sarà pronto lo imbottiglierò e lo spedisco. Ecco che vedete che è la prima enorme frattura rispetto a tutti gli altri produttori che stavano andando in una direzione opposta dove la gara era essere lì i primi con più vino possibile, fatto anche peggio possibile. È talmente bravo a degustare Jules Chauvet che addirittura ha creato un calice che onestamente secondo me non va benissimo però vabbè, lui ha creato questo calice che viene considerato il calice la degustazione in Francia che è estremamente piccolo e generalmente i calici piccoli come il flute non vanno bene però troviamogli un difetto anche a Jules Chauvet e quindi ha creato questo calice che adesso è diventato, questo non c'entra una nota. Lui dice che il suo motto era che la vite meno la tocchi e meglio è, questo voleva dire che devi intervenire meno possibile in vigneto, tantomeno ovviamente con la chimica. Lui dice ragazzi voi state sbagliando tutto e questi quasi dicono ma no ma come stiamo sbagliando, vendiamo le nostre bottiglie in Giappone, in Canada eccetera, non stiamo sbagliando proprio niente, sei tu che sbagli che invece aspetti mesi, secoli prima di vendere le tue bottiglie e dice vedrete che invece avrò ragione io. Effettivamente il futuro, cioè i tempi attuali, gli stanno dando seppur ancora non abbastanza ragione. Lui infatti decide che di utilizzare un approccio estremamente naturale, la sua viticoltura era fatta in maniera senza l'utilizzo di nessun tipo di chimica, seppur lui fosse preparatissimo, se lui avesse le competenze per probabilmente più di tanti altri viticoltori di sfruttare la chimica a suo vantaggio e invece decideva di non farlo. Così come decideva di andare lui in vigna a coltivare le sue piante, decideva lui di conoscere una per una le sue piante e vinificarle sempre con il metodo del Beaujolais, la macerazione carbonica eccetera, però senza l'utilizzo di chimica. Arriviamo così più o meno ai giorni nostri, arriviamo all'eredità di Jules Chauvet. Jules Chauvet seppur predicasse nel deserto, nei vigneti aridi e devastati da questo utilizzo di chimica massiccio, comincia ad avere dei seguaci. Si forma così una squadra che ha reso un pochino mitico la figura di Jules Chauvet ma non solo, ci sono in particolare quattro altri vignaioli che lo seguono e che dicono senti ma aspetta proviamo a vedere che magari questo Jules qua dopo i suoi studi, dopo essere scappato dalla guerra, dopo aver studiato a Berlino con i migliori profumieri di Francia eccetera magari qualche cosa ha ragione. E quindi Jules Chauvet è stato il primo, negli anni 80, a stabilire delle regole, a stabilire quello che poi diventerà ai giorni d'oggi il cosiddetto movimento dei vini naturali. Chauvet sancisce insieme con quel gruppo di altri quattro vinicoltori di darsi delle regole. Diciamo sentite noi cominciamo, poi vedrete che il mondo ci seguirà. I principi che Chauvet sancisce e obbliga in un certo senso i suoi compagni di avventura a utilizzare sono questi. Bisogna utilizzare esclusivamente vecchi vitigni. Il vitigno è l'uva, il vitigno di Merlot, il vitigno di Gamè, il vitigno di Toccai, il vitigno di Sauvignon, di Cabernet eccetera. Questi sono i vitigni. Ok quindi vitigni vecchi, quindi cose che c'erano sul territorio da sempre, quindi il Gamè che è il classico vitigno nel Beaujolais Nouveau. Un altro dei principi sanciti da Chauvet era che bisognava abolire dall'inizio alla fine della produzione, quindi dalla vigna alla bottiglia, bisognava abolire gli input sintetici. Tutto quello che non è naturale doveva essere abolito e questo con le conoscenze dell'epoca. Adesso è più facile fare il vino biologico, biodinamico, quella volta là era molto più difficile. Questo perché? Perché lui diceva se noi non addiamo niente, se noi non droghiamo, se noi non viziamo le nostre piante con concime, con nutrienti, le nostre piante dovranno trovare le risorse da sole per fare quello che sanno fare, cioè produrre uva e come la produrranno nel migliore dei modi. La Chauvet dice un altro che dobbiamo selezionare esclusivamente grappoli sani, quindi raccogliere a mano una per una soltanto i frutti maturi. E infine la fermentazione deve avvenire esclusivamente con i lieviti naturali. I lieviti naturali di cui si parla tantissimo adesso che sono i lieviti che sono intorno a noi, che assistono a questa mia e nostra intervento. Nell'aria ovviamente ci sono dei lieviti, ci sono che aspettano, vivono, volano, aspettando il buon momento. Il buon momento qual è? Qualcosa di zuccherino su cui buttarci sopra e poi cominciare a fare quello che devono fare. E questo in una cantina succede ovviamente, però è pericoloso perché tu dici i lieviti naturali, ok io prendo, è come se voi prendeste la vostra marmellata, la lasciate lì all'aperto e aspettate che succeda qualcosa. Ci arriveranno dei lieviti, ci arriveranno dei batteri, dei funghi eccetera, qualcosa succederà. Qualcosa di buono o di cattivo? Sarà più buona o peggiore? Sarà la muffa tipo quella del gorgonzola che migliora il prodotto o sarà qualcosa che lo peggiora? Ecco, questo dipende un po' dalla fortuna, dipende dalla bravura. E in cantina succede la stessa cosa, se io lascio il mio vino che inizi a fermentare con i lieviti che ci sono nell'aria potrebbe andare bene, potrebbe anche andare male. Però utilizzare i lieviti in bustina, il lievito pane degli angeli che usiamo per fare le torte, esiste l'equivalente anche ovviamente in cantina per il vino. Capite che però usarlo non ci dà l'espressione veramente del territorio e quindi si utilizzano esclusivamente vini ottenuti con lieviti naturali, cioè si lascia che la vinificazione avvenga da sola. Per quella volta lì probabilmente sono concetti assurdi, uno dice ma stai scherzando ma non esiste che io rischio di perdere un anno di lavoro solo perché voglio che la fermentazione avvenga in maniera naturale. Adesso invece, non dico la consuetudine perché purtroppo non è così, però effettivamente si sta andando sempre più in quella direzione e questi quattro principi di Jules Chauvet sono quelli che poi hanno indirizzato tutto il movimento dei vini naturali che poi è stato affiancato da altre filosofie tipo la biodinamica, il biologico direi che non è una filosofia, è più ormai qualcosa di molto standardizzato, però il famoso movimento dei vini naturali è stato sicuramente pensato, ideato e applicato da Jules Chauvet nel Beaujolais Nouveau circa 40-50 anni fa. Grazie Ok, abbiamo fatto questa nostra corsa cavalcata dagli anni più o meno 50 agli anni 2022 ormai parlando di cose che magari non tutti sapevano, cose che non ci sono nel nostro fumetto, non si parla di Jules Chauvet, infatti per quello io ci tenevo a raccontarvelo perché così avete qualcosa in più. Quanti di voi hanno già letto il nostro fumetto? Uno, due, tre, quattro, eh, eh, quindi. Gli altri hanno l'occasione adesso di farlo. Avete, che domande avete? Volete chiedere a Joe di disegnare qualcosa di particolare? Fatelo, sentitevi liberi di farlo, adesso è il momento, è a disposizione, quindi volentieri. Oh, se volete chiedere a me qualcosa, altrettanto volentieri. Il guido, tutti i avvicini, vuoi dire qualcosa tu? Mi chiedevano prima, giustamente, il tuo percorso, chi sei? Mi chiedono chi sono, il mio percorso. Allora, Udine Est, poi sono sceso giù, poi uscito a Padova Ovest, proseguito fino qua, arrivato, trovato facilmente. Io sono un sommelier da dieci anni, mi sono avvicinato al mondo, non faceva granché ridere la battuta qua del percorso, vabbè, il, 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 sono sommelier da una decina d'anni circa, anch'io ho indossato il papillon, quel vestito da pinguino, il posacenere qua appeso al collo, per molto poco tempo, dopodiché l'ho immediatamente abbandonato, tra l'altro se qualcuno vuole comprare una cravatta da sommelier, io ce l'ho ancora nell'armadio, e il, dicevo, l'ho abbandonato quel percorso immediatamente perché non mi rappresentava assolutamente. Purtroppo spesso nel mondo della sommelier c'è l'abitudine a far sentire stupido, ignorante, chi invece non ne sa tanto di vino, è una cosa che io detesto, e questo me l'ha fatto capire una, così, una sera, parecchi anni fa, in cui un mio amico stava massaggiando, eravamo a cena, stavamo massaggiando questo vino assieme, lui lo beve, io lo bevo, lo annuso, lui si dimentica di annusarlo, ma va bene, e lui mi dice, io gli chiedo com'è, come ti sembra? Lui faccia, boh, non lo so, lui, a me, mi dice, boh, non lo so, dimmi tu, sei tu che te ne intendi, e io gli faccio, ma perché invece per la pizza che stiamo mangiando non mi hai chiesto com'è a me, perché per la pizza sei in grado di esprimere un giudizio buono, grassa, pesante, leggera, troppo oleosa, troppo salata, eccetera, invece per il vino hai paura e devo essere io a dirti com'è, e questo effettivamente, dall'inpo io ho capito che per il mondo del vino, per qualche motivo, abbiamo tutti paura a esprimere giudizi, a dire, boh, a me piace, però non me ne intendo, eh, perché però non me ne intendo, basta, cioè a me piace, punto, che poi dopo avete assaggiato questo vino, a qualcuno piace, questo vino è piaciuto particolarmente, una roba incredibile, senza timore, tutti timidi, sì, però non so, non me ne intendo, ecco, a qualcuno è piaciuto, agli altri immagino di no, ma va benissimo, non c'è problema, l'importante è dire sì, no, mi piace, non mi piace, quindi ci vogliono delle competenze, non possiamo limitarci a dire buono o cattivo, cerchiamo di andare oltre, però non facciamoci problemi per piacere a parlare di vino, come se fosse una roba riservata a pochi, pochi che maledizione spesso sono col papillon, la cacca da pinguino e il posacenere al collo. Questo sono io, Joe, tu invece da dove vieni? La battuta, quella sul percorso, l'ho già bruciata io, quindi... Arrivo da una serata difficile, mi perdonerete se parlerò poco. No, niente, io sono Joe, faccio i fumetti e... qual è la mia missione? Qual è la mia missione? Di solito mi preparo un discorso, oggi me lo sono dimenticato. Che cosa hai fatto? Che altri... Sì, vabbè, ho studiato fumetto, ho pubblicato il libro con la becco gialla e mi sono ultimamente dedicato al fumetto, chiamiamolo documentaristico, è un po' di anni che seguo questa parte qua, quindi il raccontare storie, raccontare cose realistiche attraverso racconti, leggende anche di fantasia spesso. Ho fatto un piccolo libro sul terremoto del Friuli per esempio in una chiave fantasy. Ecco, questo qua diciamo che un po' il coronamento di tutto questo mio percorso nel quale appunto mi piace raccontare cose vere attraverso il linguaggio del fumetto che è quello col quale sono cresciuto fondamentalmente. Concludo dicendo due cose. La prima che riguarda Joe è che lui è un po' timido nel mostrare le sue medaglie, ma lavora, collabora per una rivista di satira in friulano, Matarano, che ha vinto da poco il premio come miglior rivista di satira nazionale. Quindi un bel riconoscimento per Joe e per tutto il vostro gruppo di lavoro. È vero, me l'ho dimenticato, ma è vero. Ecco, la seconda cosa che invece voglio dirvi è un progetto su cui stiamo lavorando io e Joe, sempre con Guido, Becco Giallo, si può dire? Sì, si può dire. Però se non lo diciamo fa più, crea più suspense ormai, che adesso l'ho introdotto e poi vabbè dai lo diciamo. Stiamo, uscirà in primavera, aprile, maggio, no? Riusciamo a tirare forse fino a maggio? È la lotta con la casa editrice, l'analogo di conoscere il vino, ma questa volta sarà sulla birra, ovviamente sarà sulla birra, altra nostra grande passione, come un po' tutto quello che è alcolico in fondo. Io vi ringrazio, siete stati un pubblico bellissimo. C'è una domanda, che bello. Devi, secondo me, devi urlare fortissimo e io ti sentirò. Visto che sono un ignorante, all'inizio hai parlato di tannico, ero curiosa di sapere il vino naturale col tannico, cioè non c'è come si fa, come era il legame. Ok, allora, l'abbiamo visto, grazie per la domanda, sono contentissimo quando succedono queste cose. Riusciamo ad avere un dialogo, bello. Il tannino, che ovviamente deriva dal fatto che sull'uva a bacca rossa è presente, cioè c'è, il tannino è nell'uva a bacca rossa, in quella bacca bianca non c'è, è il motivo per cui i vini rossi sono tannici e i bianchi di solito non lo sono. In realtà è un po', se noi ragioniamo sul discorso del Beaujolais Nouveau, il fatto che la fermentazione avviene all'interno di questi acini, che poi dopo vengono spremuti, ovviamente si ricava al succo, i tannini che sono sulla buccia non vengono trasferiti granché a questo succo. Ok? Perché? Perché la macerazione, non c'è tempo del trasferimento, anche perché il grosso avviene all'interno dell'acino. Motivo per cui, avete sentito, che anche questi vini qua che avete assaggiato non sono particolarmente tannici. Nel modo di vinificare normale, chiamiamolo così, classico, ecco, più che normale, quindi non con la macerazione carbonica, ma il primo che vi ho descritto appena ci abbiamo iniziato a parlare, quello dipende tutto dall'uva e da come la vinifichi. Se tu lasci le bucce per tantissimo tempo a contatto col mosto, avrai un vino tannico. Se invece non le lasci proprio, avrai un vino per nulla tannico o poco tannico. E questo però, indipendentemente dal fatto che tu utilizzi chimica, che non la utilizzi, che in vigna sei andata a piedi con le forbici oppure col trattore da 5 tonnellate, questa è in maniera del tutto indipendente. Però nella vinificazione con questo metodo, con la macerazione carbonica, quello del Beaujolais Nouveau, generalmente hai sempre vini poco tannici. Quindi se ti piacciono i vini leggeri, molto fruttati e poco tannici, questi vini potrebbero rispondere alla tua richiesta. Attenzione però che non dimenticatevi questi vini in cantina, hanno un tempo di vita molto breve, dopo pochi anni, già scendono velocemente, proprio perché non ci sono i tannini, che sono dei conservanti, non c'è l'alcol, o ce n'è ma poco, che permette ai vini di evolvere nel tempo. Avete altre curiosità, domande? Quello è il microfono dei curiosi. Io sono un po' un neofita in questo... Sì, ma non serve fare premesse, è come il... No, no, ma infatti mi è piaciuto il tuo approccio. Senza paura. Però il senso è, quando io voglio andare a cercare questa tipologia di vini, dire vino naturale, non esistono delle etichette o dei riconoscimenti, però cercare vini senza lieviti selezionati, con fermentazioni di un determinato tipo, come facciamo a cercare... qual è il futuro di questi vini in sostanza? Cioè ci sarà una sorta di etichetta, c'è un progetto dietro, quale sarà il futuro in sostanza? Ok, grazie. Anche questa è una domanda bellissima, complimenti. È vero che non c'è un'etichetta, un simbolo, un logo per i vini naturali. C'è per i vini biologici, ma sappiamo che il biologico permette le maniche piuttosto larghe rispetto a quello che si può e non si può fare. Meglio di niente, però comunque non è proprio un approccio estremo o veramente sensibile all'ambiente come vorremmo noi. Esiste una categoria che è ancora più avanti del biologico, che prevede delle lavorazioni ancora più, in un certo senso, naturali, che è il biodinamico. Il biodinamico è quasi più una filosofia, però, che è un vero approccio agronomico. È una filosofia che segue alcuni aspetti che magari difficilmente la scienza riesce a spiegare, per esempio, uno su tutti, il fatto di, a parte seguire i cicli lunari e quello dici ok, va bene, fin lì la scienza dice ok, ci arrivo, ma forse ci arriva un po' meno quando dice che, per esempio, che una delle preparazioni classiche della biodinamica consiste nel seppellire un corno, un corno di una vacca vergine, riempito di letame, va seppellito sottoterra e nella misura di un corno per ettaro. Un ettaro è una vigna di cento metri per cento metri, dove ci sono immaginate cinquemila piante più o meno. Perché? Perché quel corno lì rilascia un'energia a tutto il terreno che non può che far bene alla vita. Se siamo scienziati, nel senso che ci vediamo solo quello che possiamo dimostrare, allora faremo fatica a credere. Se invece crediamo che forse l'uomo non è proprio in grado di dimostrare qualsiasi cosa, allora ci possiamo credere. Allora credetemi che io sono, non l'ho detto, ma prima di essere sommelier mi sono laureato in agraria, quindi ho sempre avuto una visione molto scientifica rispetto al vino e inizialmente ero estremamente scettico che questo corno, ma così come tutto il resto, per esempio, non lo so, devi dinamizzare, prima di spargere queste specie di tisane di fatto in vigna, devi dinamizzarle. Per dinamizzarle puoi farlo in un certo senso, in senso orario, ma non girando in senso anti-orario, perché se giri in senso orario succede una certa cosa, non sono un esperto di biodinamica. Ecco, quando mi dicevano queste cose, 15 anni fa, insomma io sorridevo un pochino, invece pian piano adesso, io mi capita spesso di assaggiare vini biodinamici e sono vini perfetti, dal punto di vista tecnico. E dici, per di più sono perfetti, buoni e per di più sono fatti bene, cioè sono fatti senza chimica, ovviamente, soltanto con queste cose di cui vi ho accennato adesso. E quindi dici, benvenga che succeda questo, benvenga che venga considerato il vigneto non più come una singola pianta, ma come tutto un organismo. E vi capiterà, se entrate in un vigneto biodinamico, vi capita di camminare e sentire che la terra è soffice sotto i vostri piedi, se andate in primavera e in estate vi accorgerete che c'è una marea di insetti, cosa che invece in un vigneto cosiddetto tradizionale, quelli lungo l'autostrada per esempio, non c'è neanche una mosca che passa per sbaglio, camminate per terra ed è camminare come camminare qua, e quelli sono vigneti tenuti in piedi esclusivamente ovviamente dalla chimica. Se invece c'è un approccio molto più naturale, biodinamico, in questo caso di cui sto parlando, ecco che tutto l'ecosistema vigneto ne beneficia, e anche i vini. Attenzione però che non tutti i vini biodinamici sono perfetti, perché non potendo utilizzare la chimica, spesso non è così facile star dietro alla natura, soprattutto se sono annate iperpiovose, eccetera. E la biodinamica è più, vi dicevo, una filosofia, cioè un approccio quasi alla vita del contadino, del viticoltore. C'è in realtà un'altra, però, ecco scusatemi, però, del biodinamico c'è il bollino, che si chiama, uno è Demeter, forse lo conoscete, c'è anche su altri prodotti, non solo sul vino. Il fatto è che chi è biodinamico ha questo approccio alla vita un po' particolare e fa fatica ad accettare le logiche commerciali che ci sono dietro a sto bollino, che è che devi pagare per averlo, devi pagare una percentuale sul vino che vendi all'associazione che ti certifica, e uno dice, senti, io il vino lo faccio, Demeter, lo faccio non biodinamico, non per vendere una bottiglia in più, ma lo faccio perché io credo che sia giusto, e quindi il bollino non ce lo metterò. Quindi per rispondere alla tua domanda, se tu, per avere un vino biodinamico, qualcuno lo scrive in etichetta, ma se non lo scrivono devi conoscere il viticoltore, il produttore, o devi conoscere qualcuno che lo conosca, che ti dica, quello lì è un vino biodinamico. Esiste un'altra tipologia di vino, che è quella dei vini naturali, che non ha nessun bollino, non c'è un disciplinare, non c'è scritto da nessuna parte come è fatto un vino naturale, è una definizione molto blanda, che però spesso riguarda la quantità di solforosa, cioè i solfiti, che vengono messi dentro nel vino, che va da zero a pochissimo, per darvi un numero, non so, 15-20 milligrammi litro, ecco, al di sotto di questo è pochissimo, ok, che utilizza lieviti naturali, cioè quelli di cui abbiamo parlato prima, che stanno nell'aria intorno a noi, che ovviamente non utilizza diserbanti chimici, che non utilizza nessuna chimica. Però per questo non c'è un bollino. Il futuro qual è? Secondo me, grazie a Dio, è sempre in questa direzione, quella dei vini sempre più naturali, un po' perché vendono e un po' perché effettivamente, per fortuna, i viticoltori si stanno rendendo conto che molto dipende molto del nostro ambiente, dipende da quello che fanno anche loro come agricoltori, di conseguenza ne troveremo sempre di più. Però purtroppo, proprio perché non c'è così questa grande domanda, è ancora difficile da identificare. Mi fanno cenno che dobbiamo lasciare nel palco al prossimo relatore. Io ho una sete boia a guardarvi bere e parlare, non vedo anch'io l'ora di scendere ed assaggiare il vino insieme a voi. Chi, se qualcuno vuole acquistare il libro, può farlo e può anche approfittare di Joe, che gli fa un disegnetto sopra, lo personalizza. Io posso scrivere qualcosa, se volete, ma altro non so fare. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Grazie.